grazie leggi 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 noi vogliamo sentire allora mi leggi te lo lego io caro padre Buonaventura ti ringraziamo di essere stato tra noi uno di noi abbiamo sicuramente te beniziato con i nostri campi per fortuna ci senti da un vento solo io sono mezzo stonato però ci tengo a queste cose stiamo a pescare mi accompagniamo nella liturgia qui ho visto invece che è andato veramente bene ma io faccio il complimento così non lo seguo bene mi 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 Viva Donna, povertà 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 Con questo ringrazio veramente il Signore e ringrazio anche voi perché non è facile in un Paese così entrare in una sintonia oppure in una tipo di diattura così di fare con partecipazione molto bene Certo c'è da fare parecchio di un Paese proprio perché vedi a dire un po' questo Viva Donna, povertà Viva Donna, povertà Viva Donna, povertà Viva Donna Io pensavo di lavorare un po' di più, no? In questa cederezione Ditemi un'unità nostra